Ieri, nella memoria liturgica di Santa Giuseppina Bacchita, si è celebrata la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. Per sanare questa piaga, perché è una vera piaga, che sfrutta i più deboli, è necessario l'impegno di tutti, istituzioni, associazioni e agenzie educative. Sul fronte della prevenzione mi preme segnalare come diverse ricerche attestino che le organizzazioni criminali usano sempre più i moderni mezzi di comunicazione per adescare le vittime con inganno. Pertanto, è necessario, da una parte, educare a un uso sano dei mezzi tecnologici, d'altra, vigilare e richiamare i fornitori di tali servizi telematici alle loro responsabilità.